Allora, terza vittoria consecutiva nel giro di sette giorni tra campionato e Coppa, possibilità anche di vedere in campo qualche volto nuovo. Coppola, hai mancato soltanto il gol? Sì, però ci è mancato poco, veramente poco, siamo contenti per questa vittoria e non molliamo mai. Ecco, non si molla mai, l'abbiamo anche sentito in Coppa, un'importante vittoria, ma soprattutto quella in campionato che vi fa trovare coraggio. Sì, sicuramente partiremo con una marcia in più, sia agli allenamenti, sia ogni partita che faremo, quindi siamo soddisfatte per adesso. Allora, Natalina Javarone, ti aspettavi di trovare anche te spazio in questa stagione? Beh, insomma, non oggi, però prima o poi dovrà succedere. Allora? Sono contenta. Quando ci sono queste partite, la possibilità quindi di vedere e soprattutto mettere in difficoltà a questo punto il mister in chiave futura nel campionato? Eh sì, questo è vero, però oggi ha dato l'opportunità a più ragazze di giocare, perché così vengono anche invogliate di più in allenamento. Allora, si dice sempre che quando un avversario non è di un calibro così assiduo, così arduo, il risultato non fa testa, però qui ci sono undici gol, tre pali colpiti, un calcio di rigore fallito. Non si può sicuramente dimenticare che a tabellino è sempre finita la coccinella. No, no, beh, siamo state un po' sfortunate perché tra pali e così, però abbiamo giocato bene, perché guardiamo soprattutto il gioco, perché dobbiamo imparare a non affrettarsi a andare troppo avanti e sapere giocare pure dietro, soprattutto, e tenere la palla e giocare dietro. E oggi l'abbiamo fatto più volte, anche diciamo che il mister ci ha proprio strillato per farlo. Beh, oggi l'avete fatto sgolare soprattutto nel primo tempo. Beh, però al secondo tempo poi è andato meglio per tutte le ragazze, perché poi ci ha parlato anche dentro allo spogliatoio che dobbiamo anche saper giocare sempre dietro anche, soprattutto quando ci chiudono dobbiamo ricominciare da dietro. Quello che noi magari piano piano dovremmo imparare meglio a farlo.